Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel mio canale Allora oggi siamo nel video dove vi spiego come installare i driver Nvidia della vostra scheda video su Linux Mint 17.3 Io ho preso come scheda video questa di qua dell'Asus con chipset GeForce GT 730 E' una 2GB, volevo fare l'unboxing ma ve lo risparmio che alla fine è tirare fuori dalla confezione la scheda video che vedete qui E materialmente poi nella confezione c'è solo il cd con i driver di Windows Quindi vi evito lo strazio Allora per installare i driver ragazzi io vi consiglio di andare su menu amministrazione gestore dei driver Digitata la password d'amministrazione, date invio E il gestore dei driver andrà a ricercare il driver disponibile per la vostra scheda E in questo caso mentre che lui cerca vi faccio vedere l'alternativa a questo Ovvero andare nel sito del produttore e scaricare il driver manualmente Se in questo caso è Asus scrivete appunto il modello della vostra scheda E dalla scheda andate su supporto driver tool E qui dovreste trovare Linux Però in questo caso Asus non li fornisce Però essendo che è un chipset Nvidia andiamo su nvidia.it Facciamo driver, scarica driver e ci ritroviamo qua Scriviamo appunto la tipologia di scheda Quindi è una GeForce serie 700 perché ho detto che è una GT 730 Famiglia dei prodotti GeForce GT 730 Qui come vedete non esce Linux Però facciamo mostra a tutti i sistemi operativi E scegliamo Linux 64 bit nel mio caso Nel vostro caso potrebbe essere anche 32 bit ma ne dubito Facciamo ricerca E ci andrà a dare appunto il pacchetto dei driver Torniamo al gestore dei driver E vi faccio vedere quelli che trova Quello open che stiamo utilizzando in questo momento E l'ultima versione che è questa Nvidia 375 Consigliato perché è quello ufficiale di Nvidia Quindi quelli non open source Come vedete dal sito è la medesima versione 375.66 Ora se dal gestore dei driver vi vede il driver giusto Selezionatelo con un clic e fate applica modifiche E ve ne uscite dalla malattia Diversamente se qua non c'è per un motivo X Andate a reperirlo dal sito del produttore Che può essere Nvidia o AMD Radeon Quindi andate nel vostro sito di riferimento Vi scaricate il pacchetto In questo caso fate download immediato Accetta e scarica E fate conserva se usate Google Chrome Con Firefox credo che parte subito Vi scaricate il file run E poi ragazzi per eseguirlo Dovete semplicemente aprire una schermata di terminale Spostarvi nella cartella dove avete scaricato il file Quindi cd scaricati Nel mio caso E poi scrivere sh E il nome del file di Nvidia Se non lo sapete vi basta fare ls Lo vedete nella lista Eccolo qua Nvidia bla 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 Lo selezionate con il tasto sinistro Così Tasto destro copia Prima però di avviarlo Ragazzi dovete diventare root Quindi o scriviamo sudo sh E copiamo il link O facciamo su Diamo invio E diventiamo root Digitando la nostra password Magari correttamente pure Dico così Ok Identificazione sbagliata Ok Stavolta l'ho scritta giusta Una volta fatto questo Quindi siete diventati root Scrivete sh Spazio E incollate Facendo tasto destro Incolla Il nome del vostro file Che avete appena scaricato Date invio E seguite una semplice procedura A video Con Semplicemente dando ok Da tastiera Io non lo faccio perché Se no BS si distrugge Quindi Non lo faccio Chiudiamo qua Una volta che avete terminato Come leggete anche qua Le ultime fasi dell'installazione Vi chiederanno di Aggiornare il file di configurazione Di X Accettate l'offerta E modificate manualmente il file Di configurazione di X In modo che venga utilizzato Il driver X di Nvidia Praticamente vi chiederà Quale driver utilizzare Quello open O quello Nvidia Scegliete quello Nvidia E il gioco è fatto E ovviamente ragazzi Non posso farvi l'esempio Per qualsiasi scheda video Perché non so che modello avete Non ce l'ho E quindi anche se mi scarico il file Materialmente Non me lo installerebbe Comunque sia Comunque sia ragazzi Consiglio personale Installatelo Dal gestore dei driver Perché con un semplice click Avete veramente finito Fate applica modifica E andate Più che tranquilli Nel caso in cui Vi dovesse dare problemi O scegliete Una versione più vecchia Quindi la 340 O riutilizzate Quello open source Anche se comunque Il mio consiglio è Utilizzate quello di Nvidia Perché comunque Più ottimizzato E viaggia meglio Anche nel caso di AMD Radeon Quindi utilizzate sempre Quelli proprietari Bene ragazzi Per questo tutorial è tutto Se avete domande O dubbi Scrivete nei commenti Che io Se posso Vi rispondo Dico se posso Perché magari Non conosco neanche io La risposta Non mi sento un tuttologo Quindi Sono sincero E niente ragazzi Come vi ho detto Vi lascio Il link della mia scheda Che ho acquistato In descrizione Se magari Vi volete dare uno sguardo Non vi metto il link Di Amazon Ma quello di Asus Così Poi su Amazon Ve lo cercate voi Magari pensate Ci guadagno Non ci guadagno Assolutamente nulla E niente ragazzi Se vi è piaciuto il video Lasciate un mi piace E se non vi è piaciuto Lasciate un non mi piace Mi sembra pure corretto E niente Come sempre ci vediamo In un prossimo video Ciao 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 Ciao